Ciao a tutti, sono Riccardo Bisatti, pianista e direttore d'orchestra e faccio parte di questo meraviglioso progetto del Teatro Reggio di Torino. Il mio amore per l'opera lirica nasce da quando sono bambino, cantavo nel coro di voci bianche in teatro e quindi ho visto il lavoro del direttore d'orchestra e mi sono subito appassionato. Inoltre ho frequentato il Teatro Reggio di Torino da spettatore e quindi essere in questa meravigliosa avventura per me è un grande onore.